Ciao, buongiorno, ben arrivati. Allora, che cosa volevo farvi vedere oggi? Quello che vi volevo far vedere oggi era, ieri vi ricordate che abbiamo fatto la LOL, volevo farvi vedere come ottenere la scritta LOL, con tutti quei puas sicuramente avrà fatto impazzire ben più di una persona e volevo farvi vedere come realizzarla insieme. Direi che vi posso girare. Dovrei aver preso tutto, mi auguro, e basta, cominciamo. Allora, aspettate che la prima cosa di cui abbiamo bisogno è la pasta di zucchero fucsia, quindi color magenta, quindi la andiamo a stendere. Ecco qua, dovremmo esserci. Poi che cosa ho fatto io? Io mi sono, aspettate che prendo tutto, io mi sono stampata la scritta LOL, ok? Mi sono stampata la scritta che vogliamo realizzare e ho ricalcato, ciao Anna, ciao Raluca, un bacio, e ho praticamente ricalcato su, non so se, aspettate che vi sposto questa così vedete meglio, su carta da forno, ok? Quindi, che cosa facciamo? Prendiamo la nostra pasta di zucchero color magenta, prendiamo la carta da forno che abbiamo appunto ricalcato e con una matita andiamo a ricalcare nuovamente sopra la carta da forno, così. Ciao Giusy, un bacio! Ora, una volta che abbiamo ricalcato andiamo ad alzare e avremmo impresso la scritta, ok? Quindi dolcemente e delicatamente con un cutter con un coltello andiamo a ritagliare. Anche in questo caso dobbiamo cercare di essere il più precisi possibile. Direi che ci dovremmo quasi essere. Qua è venuto un po' storto, poi lo sistemiamo e tiriamo su, ok? E abbiamo la... Oddio Letizia, mica tanto ferma, prima tremavo, sicuramente meglio di ieri, ho un po'... ho bloccato la dose di caffeina che ingurgito quotidianamente. Ok, andiamo ad ammorbidirci un po' i bordi. Adesso dobbiamo creare la parte bianca con i puoi. Quindi, leviamo la nostra prima parte di scritta, aspettate che se non faccio guai, prendiamo la pasta di zucchero bianca e andiamo a stendere anche questa. Una volta che l'abbiamo stesa, direi che possiamo stenderla ancora un pochino. Ok. Ok, così. Cosa facciamo? Ci prendiamo il nostro B-Stencil Poire. Questo è lo Stencil Poire, la misura media, perché abbiamo tre diverse misure di Poire, prendiamo la ghiaccia reale già colorata di nero, come vedete, ci mettiamo un po' di ghiaccia sullo Stencil, con la spatolina andiamo a passare, in questo modo. Mi raccomando, come sempre, cercate di tenere lo Stencil il più fermo possibile quando passate, per evitare che il disegno sottostante vi venga tutto un po' mosso, diciamo. Una volta fatto questo, alziamo delicatamente il nostro Stencil e abbiamo i nostri Poire. Adesso, nel frattempo che la ghiaccia si asciuga un pochino, noi cosa facciamo? Ci prendiamo il disegno delle LOL, diciamo così, con la scritta e andiamo a ritagliare, non so se vedete, andiamo semplicemente a ritagliare le lettere. Direi che la L l'abbiamo fatta, la stessa cosa la facciamo con la O, quindi così, di L ne basta una perché tanto sono uguali, non c'è bisogno di, come si dice, di ritagliarle tutte e due. Quindi prendiamo la L, ciao Natascia, ciao Irmana, ci prendiamo la L che ci siamo appena creati, la appoggiamo sopra e aiutandoci un attimo, tenendolo fermo con qualcosa, perché sennò se si muove è un disastro, guardate la mano come trema, poi mi dicevate che non tremava. Ok, andiamo a ripassare i bordi, spostiamo e ripassiamo lungo il taglio che abbiamo fatto, così. Ok? E cominciamo a levare la nostra prima L, così non la annientiamo. La stessa cosa la facciamo con la O, quindi ci appoggiamo e andiamo a tagliare. Perfetto. Alziamo, poi adesso voi farete una cosa, io me lo sono già preparato, dovete andare a ritagliarvi il centro, così lo potete mettere al centro della O, un po' più in alto, direi, ok? E tagliarvi anche il centrale. Una volta fatto questo, ripassiamo di nuovo per assicurarci di aver tagliato bene la pasta di zucchero. Ok, adesso dobbiamo rifare un'altra L, quindi prendiamo di nuovo, così. Ok, leviamo, adesso dolcemente alziamo e dovremmo avere le due lettere ritagliate. Ok, ora fatto questo, dobbiamo andare, aspettate che sposto, così mi metto su e voi potete vedere bene.